Ci hanno detto che viviamo in un mondo democratico, un mondo libero. Ci hanno detto che il futuro è multiculturale. Ci hanno detto che l'euro avrebbe portato ricchezza e benessere. Ci hanno dato solo caos, degrado e povertà. È dal popolo e solo dal popolo che comincia la rinascita. Quando la politica ammarcisce è tra il popolo che rinasce la speranza. La difesa dell'Italia è già cominciata. I patrioti marciano nelle strade, si riprendono i quartieri, riportano ordine e sicurezza. Il sistema allo sbando ha spalancato i propri confini non a profughi, ma a masse caotiche di uomini che drenano le nostre risorse con il business dell'accoglienza. Gli italiani sono vittima di una classe politicante che ha tradito, cedendo sovranità, ricchezze e libertà che i nostri padri avevano accumulato per noi. L'italiano che si oppone a questi traditori e agli invasori viene perseguitato o criminalizzato. Ma ci sono degli italiani, veri italiani, che combattono. Quartiere per quartiere, strada per strada, la lotta di popolo è iniziata. Dio, patria, famiglia, casa e lavoro solo agli italiani. Queste le loro parole d'ordine, questo il loro grido di battaglia. Per anni i patrioti hanno diviso le loro energie, ma sono tempi bui, e per questo Forza Nuova ha suonato il corno e Fiamma a Tricolore ha risposto. Un patto nazionalista è stato stretto, un nuovo farro che lancia il suo fascio di luce e di speranza e che dà finalmente inizio all'unità dei patrioti. Patrioti uniti per la sovranità nazionale, soldati politici per i quali i confini sono sacri e vanno difesi, che vogliono una moneta sovrana e l'arroganza bancaria di Bruxelles stroncata. Ogni popolo ha la sua terra, ogni terra ha il suo popolo. L'Italia deve essere liberata dall'immigrazione selvaggia, i clandestini e coloro che commettono reati devono essere tutti rimpatriati subito. Contro la sostituzione etnica bloccheremo l'invasione e lanceremo immediatamente un grande piano di sviluppo demografico, soldi alle madri e case popolari a riscatto per gli italiani che si sposano. Lavoro, casa, famiglia, istruzione, salute, natura, sport… Tutto dovrà concorrere alla nascita e alla crescita degli italiani di domani. Per uno stato nuovo serve una forza nuova che ricostruisca la nazione. Noi non chiediamo un voto, chiediamo di accendere un fuoco. Fai divampare la speranza. Vota Italia agli italiani.